Nei giorni scorsi, mentre l'America piangeva la morte di 19 bambini ammazzati da un pazzo insieme a due insegnanti, due maestre, c'è stato l'ex presidente Trump che ha riunito i produttori di armi e ha detto state tranquilli, nel 2024 ritorno e allora ci sarà per tutti trippa per tutti, perché lo sappiamo bene che gran parte del suo destino elettorale Trump l'aveva avuto proprio dei produttori di armi. Ho usato il nome di Trump per fare un esempio, ha anche aggiunto noi saremo a posto quando avremo armato tutti gli insegnanti delle scuole. Ve lo immaginate il professore che va a scuola con il mitra, la maestra che va a scuola con la pistola in tasca, a parte che sono stupidaggini perché poi l'effetto sorpresa sappiamo bene come va, ma sappiamo anche bene che anche l'insegnante può impazzire. Quindi quando si danno le armi sappiamo che prima o dopo, a prescindere dalle tasche dove si trovano qualcuno le userà. Però se Trump fa queste esagerazioni così provocatorie di fronte alle quali tutti noi siamo scandalizzati, non dobbiamo dimenticare poi che abbiamo tutto un settore industriale che riguarda l'Italia, la Francia, tutti i paesi civili, gli Stati Uniti, che fanno della produzione di armi lautissimi incassi. Allora la domanda che ci dobbiamo fare è, ma davvero noi possiamo permetterci di andare avanti all'infinito a produrre armi nella nostra coscienza di cristiani, sapendo che andranno a seminare morte da qualche parte e se adesso ci preoccupa l'Ucraina non dobbiamo dimenticare che ci sono luoghi del mondo, dall'Afghanistan all'Iolo Yemen, dalla Libia, da questo e da quello, dove tutti i giorni nell'indifferenza del mondo muoiono le persone. E allora produrre armi, la mia impressione, è che porti tanti voti a chi chiude un occhio, a prescindere che sia Trump, Biden, l'Italia, la Francia, la Germania, eccetera, ma alla fine dovremmo porci un grande interrogativo di fronte a questo scandalo, possono i cristiani rimanere in silenzio?